Il tema del proliferare dei cinghiali sta tenendo banco soprattutto nel nostro territorio comunale alla luce dell'iniziativa intrapresa dal sindaco Borrelli e della sua amministrazione di coinvolgere la polizia provinciale e i volontari, i cacciatori volontari del territorio per porre rimedio a quest'argine, l'argine dei cinghiali. Abbiamo ascoltato ieri anche l'ex sindaco Cicchitti che nutriva alcune perplessità su questa metodologia. In questo caso abbiamo il consigliere comunale Antonio Campitelli che voleva replicare non tanto magari sull'utilizzo di questo metodo, se sia più o meno efficace, si può essere anche d'accordo su questa opinione. Invece c'erano state delle inesattezze da parte dell'ex sindaco Cicchitti che Campitelli voleva appunto correggere, giusto? Giustissimo. Mi fa un po' sorridere, mi lascia anche un po' perplesso questa esternazione del consigliere Cicchitti in quanto, a parte sulla mia persona, che non è esatto quello che ha dichiarato, io non faccio più parte dell'ATC Vastese da ormai due anni, dopo che mi dimisi proprio a causa delle divergenze con alcuni componenti e con il Presidente del Comitato stesso in seguito all'approvazione della normativa sulla caccia al cinghiale. Questo però Cicchitti dovrebbe saperlo, visto che ha anche espresso alcune critiche, diciamo, sull'operato degli ATC, dovrebbe sapere che all'interno dei comitati di gestione degli ATC stessi ci sono anche delle persone rappresentanti dei comuni, quindi persone che lui stesso aveva nominato e nell'arco di questi anni non mi sembra che abbia mai chiesto delucidazioni o abbia mai chiesto che cosa stava accadendo all'interno degli ATC e all'interno di questi comitati di gestione. Quindi oggi esprimere delle critiche a posteriori, mentre quando era il momento di farsi sentire non ha mai fatto nessuna dichiarazione, non ha mai fatto nessuna richiesta in merito, mi sembra un tantino pretestuoso. Anche per quanto riguarda ciò che ha dichiarato in merito agli incontri con i sindaci del comprensorio sulla problematica cinghiale, Cicchitti deve sapere che a quegli incontri io ho preso parte in quanto rappresentante di categoria, quindi rappresentante di un'associazione venatoria, invitato da altri amministratori locali. Ma sfortunatamente non mi sembra di averlo mai incontrato, non mi sembra che abbia mai partecipato attivamente a questi incontri, forse ne ha saputo per via traverse, ne ha sentito parlare di questi incontri ma non l'ho mai visto partecipare in prima persona né altri amministratori del Comune di Atessa delegati a partecipare a questi incontri. Poi per quanto riguarda le questioni strettamente tecniche, c'è da dire che ho sentito la dichiarazione del tipo che questo tipo di intervento si fa di giorno. Mi sembrerebbe strano il contrario, mi sembrerebbe strano se si facesse di notte, se ci facesse sapere Gicchitti come intende attuare questo prelievo notturno, noi saremmo ben lieti di accogliere le sue proposte. Sicuramente mi può trovare d'accordo sull'efficacia, quindi su quella che è l'impatto, l'incisività di questa azione sulla popolazione di cinghiali. Io ho sempre dichiarato da rappresentante di associazione venatoria che il metodo per incidere fortemente sulla popolazione è un altro. Abbiamo fatto tante richieste in regione, abbiamo intrapreso delle vere e proprie battaglie come associazione per richiedere le modifiche della normativa regionale e della legge nazionale. Fino ad oggi questo non è avvenuto, continuerò a portare avanti lo stesso pensiero anche in nome dell'amministrazione comunale che rappresento, quindi chiediamo ulteriormente alla regione di modificare sia la normativa regionale, quindi il regolamento regionale numero 5-2014, sia la legge 157 del 92 al governo. In merito anche a queste esternazioni per quanto riguarda la regione di Cicchitti che parla di regione sorda, sicuramente sono d'accordo con lui che la regione su questo tema negli ultimi anni è stata sorda, ma l'amministrazione precedente diciamo che se non era sorda si è tappata le orecchie, perché dobbiamo ricordare che questo regolamento regionale venne partorito e approvato dall'Aggiunta Chiodi e oggi viene portato avanti dall'Aggiunta D'Alfonso. Quindi è una compartecipazione di responsabilità di entrambe le amministrazioni regionali, sia l'una che l'altra nell'arco di questi anni non hanno mai voluto affrontare concretamente il problema, non hanno mai preso decisioni forti in merito, non hanno mai affrontato con polso la situazione. Per risolvere in maniera definitiva o comunque per incidere di più sulla soluzione di questo problema, il metodo che noi stiamo adottando sicuramente non porterà grandissimi risultati, ma è quello che oggi prevede la legge. La legge prevede che si possa agire in questo modo, ci stiamo anche adoperando per poter attivare il metodo della girata, quindi con il cane di miere, in modo da essere più incisivi sulla produzione del numero di abbattimenti. Per quanto riguarda il metodo effettivo sicuramente è la caccia imbraccata quella che dà i maggiori risultati. Ho alcuni dati in possesso che riguardano non il nostro ATC ma l'ATC Chietino Lancianese, in cui in tre mesi circa di caccia imbraccata sono stati abbattuti, quelli dichiarati sui tesserini, circa 1.720 cinghiali. In tre mesi di caccia selettiva ne sono stati abbattuti 250. Questo ci dà sicuramente il metro della valutazione su quello che può essere l'efficacia del metodo. Sta alla Regione, sta al Governo, quindi cambiare le leggi, modificare le leggi per far sì che questo problema abbia una risoluzione concreta e che il metodo attualmente applicato diventi solo un palliativo, un modo di intervenire in punti particolarmente delicati o per ambienti particolarmente complessi. Ho anche appreso di alcune dichiarazioni in merito alla proliferazione dei cinghiali di Cicchitti. Penso che dovrebbe rivedere anche un attimo le sue nozioni sulla biologia del cinghiale, perché dichiarare che un cinghiale riproduce circa 80 cuccioli all'anno mi sembra un tantino esagerato. Sicuramente è una riproduzione notevole, in particolar modo nell'ambiente in cui ci troviamo oggi, perché sia l'andamento climatico sia la modifica di alcuni ecosistemi hanno fatto sì che nelle anni aumentasse la sua riproduzione. Ne può arrivare a fare anche 10-12 in una partorienza per un massimo di due volte l'anno. Quindi arrivare a 80 mi sembra veramente un tantino esagerato e mi sembra voler creare un ulteriore allarmismo o far capire che veramente comunque non si riesce a incidere in nessun modo.